Non è la prima volta che il super prefetto Mario Morcone promette a città e regioni che i sacrifici sono finiti, ma questa volta, dopo il caso Conetta, forse l'impegno preso dal dirigente nazionale del Dipartimento Immigrazione e del Ministero dell'Interno con prefetti, sindaci, delegati della regione e anche con l'Anci, ha qualche speranza di trovare riscontro. Con i suoi 14.560 richiedenti asilo accolti, il Veneto è infatti ormai prossimo a raggiungere la soglia dei 15.000 assegnati nella suddivisione tra regioni italiane dell'emergenza. E in più si concentra qui, come anche in Friuli Venezia Giulia, il fenomeno dell'immigrazione che arriva anche dai confini terrestri. Il super prefetto ha però spiegato che in Veneto il problema non è il numero, ma la suddivisione del numero, che si concentra soprattutto a sud di Padova con le due note basi di Conetta e Bagnoli. L'Anci ha stabilito con il Ministero dell'Interno una sorta di nuovo SPRAR per stabilire il numero e la modalità dell'accoglienza nei singoli comuni veneti in base al numero degli abitanti, che sarà quindi di due richiedenti asilo ogni 1.000 abitanti per le città metropolitane, di tre per ogni 1.000 abitanti negli altri comuni, con l'eccezione di quelli sotto i 2.000 abitanti, che potranno ospitare un massimo di sei richiedenti asilo. I prefetti avranno a disposizione vari strumenti per convincere le amministrazioni, oltre all'incentivo economico di 500 euro per ogni profugo accolto, la collaborazione sulla scelta dei luoghi e della gestione delle strutture da destinare all'accoglienza. In caso di dinieghi, però, la linea di confine delle maniere morbide finisce ed inizia quella della linea dura, ovvero l'obbligatorietà per ogni comune di accogliere una quota dei profughi destinati alla regione. In queste giornate di gelo, il super prefetto ha fatto poi sapere che si sta lavorando a ripristinare il riscaldamento a Conetta, struttura che verrà alleggerita nei numeri dell'accoglienza, ma non dismessa. Intanto, il presidente della regione, Luca Zaia, ha reso noti i dati sulla spesa sanitaria per i migranti, calcolata in 3 milioni di euro negli ultimi due anni. Come sarà risarcito questo impegno di spesa aggiuntivo in un'epoca di tagli costanti alla sanità veneta, si chiede il governatore, per ora senza ottenere risposta.